Mi sono trovato immerso in un'atmosfera importante, parlavamo di una malattia e quindi Ivan, che l'attore, interpretava in un modo incredibile le difficoltà che ha incontrato durante il suo percorso. Ma ho tirato fuori un messaggio positivo, cioè che non ci bisogna fermarsi davanti a nessun ostacolo, cioè la vita ci sorride e non vogliamo farci arrestare da una malattia, quindi la sensibilizzazione è fondamentale in questo messaggio. Non ho questa malattia fortunatamente, però ho dovuto un po' cercare di capire attraverso delle emozioni vissute in vita mia di come avvicinarmi quanto più possibile in maniera veritiera al personaggio. Ed è stato abbastanza duro perché ho immaginato tutto ciò che il personaggio o comunque un malato di angioide ma possa vivere nella vita quotidiana.